Final Fantasy 6 La stupenda copertina della versione cinese Ovviamente falsa C'è il suo Il Stavola Colombo sull'America Ma Ma che elardo elardo Ti ho già detto che sono un calciatore di tesori Silvia Berlusconi ed un pubblico ministero Primo titolo della serie Avvenire dopo il 5 Final Fantasy 6 Noto anche come FFB FF6 V O Inspirabilmente Final Fantasy 3 Meglio noto con il nome La magica avventura di Gigi Ed è un prodotto della Squaresoft Un videogioco di ruolo A metà di un mondo fantasy Sempre se si escludono Gli esoscherati Le navi volanti I caselli meccanici E il casino Creato dalla La casa editrice Squaresoft Nel 94 Per Super Nintendo Entertainment Entertainment System Viene successivamente Sparacchiato un po' Dappertutto Fino ad operare su Game Watch Tamagotchi Scalmi le cd Di forno a microonde Trama Fka mi sta credendo Sospitato in casa mia In casa mia E la mia terra L'avete mica visti in giro Perché sapete Io vi ho una famiglia Migli anni dopo La grande guerra dei nazi Hanna Tait Ah Hanna Taisen Una battaglia Che porta ovunque Raffreddori Mucche in morte Una giovane fanciulla Misteriosa Si trova sul sedi A servizio Dell'impero Malvaggio di turno Accompagnata Da due soldati imperiali Personaggi importanti A fine dello svolgimento Della trama Esattamente quanto La tizia Che si fa I letti Nella locanda Vengono incaricati Di setacciare Le città Le miniere di carbone Di Nash O Natch O Natchel Una roba così Loro obiettivo È di trovare La bestia fantasma Congelata Una creatura misteriosa De poteri matici O una nuova merendina Estiva tipo Eppipo Comunque Sì essenziale Per la conquista Del mondo I due trovano La bestia Mentre i soldati Schiattano Inaspettatamente Mentre la giovane Fanciulla misteriosa Sviene Da allora in poi Non sarà mai più La stessa E potrà Il resto della vita Domandarsi Quale Degnato traduttore Le abbia Appioppato Il nome Terra E quale celebro Le abbia Affibato Il nome Originale Tina Dopo questi Dammatici eventi C'è in scena L'aventura L'Olock Per salvare La Terra Che si è Oltre ormai Una ribella Per ragioni Che non stiamo Qui a spiegare Nel Mentre Decidono Andare al Castello Di Figaro Una città Desertica Dove prosperano I barbieri Di Siviglia E i meccanici Il re di questo Castello Si chiama Edgar Ronnie Figaro E oltre Essere un abile Meccanico I barbieri E anche Una sporco L'oppeggiorista Infatti Dopo essersi Alleato Con i partigiani Tattano L'imperio E si allea Solo per poterlo Lovesciare Fortunatamente Il generale Imperale Kefka Un simpatico Attacchione Pronto ad ucciderci Se non Lidia Le sue battute Scoppe tutto E cerca Di eliminare Prontamente La minaccia Nel modo Più discreto Possibile Andando Di persona Al castello E accusando Direttamente Edgar E in seguito Ingegnando La fortezza Peccato Stando per ribarcarci Nell'avventura Che sconvolgerà Il mondo E cambierà Totalmente La politica Personaggi Visto che Alla squadra Sillano ritrovati Anciché I saliti 4-7 Ben 14 Personaggi In cerca Dottore Anciché Fare una Curata Selezione E mettere Come protagonisti Definiti In un gioco Decente Decise Di dare A ciascuno Un ruolo Marginale Con delle Abilità Inutili Terra La famosissima Donna Cigno Risultato Di un esperimento Ma spiegato Fin in fondo E' pienamente Accigliata A causa Di una Disfunzione Ormonale Che le fa Crescere I capelli Color verde Fogna Durante La missione Per conto Di un impero Nella città Di Corregno Perde la memoria Diventando La famosa Smemorata Locale Solo in seguito Si scoprirà Che in realtà È figlia Di un essere Dominevole Simile a un leone Con conna Che spuntano Da anni Dove A un certo punto Si riterrà Dal combattere Farà la BBC 3 In uno Sanotofio Ma la vista Eccitante Del slangue Di Mossi L'ha fratto Da in sé L'affascinante Locke In una S'ultima Apparizione Prima del virus Locke Ex Filosofo Inglese Ormai Invenuto Un lato Architetto Di Dubbia Fama Obberato Da un passato Misterioso E condannato All'albinismo Da un desino Beffardo Si innamora Di una donna Dal piatto In filo Da due Per i fatti Tenderà A non cararlo Di striscio Per la campata Del gioco Il suo ruolo Durante i combattimenti È quello di fotto Il più troppo Possibile Dei nemici Edgar Un re Di uno strano Castello In mezzo Al deserto Ci riferisce Da un ganetron Bird Femme Ma ha lo stesso Carisma Dirmini In Final Fantasy 7 8 E non riesce A scappare Nessuna donna Dopo La semidistruzione Del mondo Lo ritroviamo A fare L'imitazione Di Han Solo Con una Comircola Di ladri Nonostante Questo Possiede Un castello Che si sposta Sottoterra E una schede Sottoposte L'Eccaculo Pronti ad ogni Suo comando Sabin Questa specie Di osso Masticando delle montagne Si unirà al gruppo Con la scusa Di essere Il fratello Di Edgar Ma la realtà Stava nel fatto Che aveva bisogno Di un giaciglio Per la notte Un posto caldo Fortunatamente Per il gruppo Segue la classica Tendenza Di alcuni personaggi Ovvero quella di siare Cazzotti Io per potente Rimi al nemico Per può urlare Io ho i pugni Nelle mani Ho cercato Di imitare Maccio Capatonda Male Sian Un povero Mino Baffuto Perseguitato Dalla malassorte Che si conta Distingue In battaglia Usando le cerebrie Alime tecniche Nei cavalieri Samula Di Rastu Quando Questo simpatico Burlone Di Kefka Decide di spargere Antrace Nell'acquadotto Del suo castello Per generare Tante risate Il baffone Decide di vendicare La sua famiglia Con il tipico Giuramento Fatto sulla Ma della sua spada Che camminato Per 5 minuti Per passare Ad una più potente Dopo la distruzione Quasi totale Del mondo Lo ritroviamo Intanto a scrivere lettere Ad uno squillo Di alto lango Ma ricordandoci Del giuramento Tornerà subito Nella squadra Da bravo Cagnolino Baffuto Qualè E il personaggio Pi' inutile Dell'intero gioco Poiché Per poter dare Un colpo di spada Che riesca tagliare Almeno Più di 74 HP al nemico Dove stare Immamorato A caricare il colpo Nel mente Il team Verrà ammazzacato Dei mostri Essendo Occupato Da mirare La potenza Della spada Di Sian Celes Celes E' uno Di membre Di spicco Dell'impero Dei nazi E' riconosciuta Anche come La donna Del ghiaccio Per la sua abilità Con i suddetti Incantesimo O come La regina Delle figlie Di legno In quanto Non la dà Mai a nessun personaggio Giocabile O meno C'è nonostante Il povero Walker Ci proverà Per tutto Il gioco E vi ricordiamo Che questo E' uno Di capitoli Di Final Fantasy Con una Longevità Maggiore Chissà come Avrà fatto Walker Innamorati Di 20 pixel Acidi Se non Altri Battaglia Si rende Piuttosto Utile Bloccando Le magie Avversarie Perca Tra quando Scopirete E che blocca Anche le vostre La scuderete In via Prima Nel Gruppo Dopo Un anno Di Comedi Ed istruzione Per so che Totale Della situazione Politico Economico Mondiale La troviamo Su un'isola Una volta riuscito Si No Riuscita Ci La disfaccia Tenterà Di suicidarsi Ma la sfiga Vuole che ci sia Sempre la pratica Radice E ti attaccare Siti salvandola Gau Un ragazzino Che è stato abbandonato In un campo Dei genitori Per sbaglio Mentre si stavano Disfacendo Dall'albero Di Natale Si diverte A girare Per la savana Del mondo Chiamata Welt Facendo Le imitazioni Dei numerosi Mosse Che provano La zona Non avendo Altre 21 persone Con cui giocare A calcio Si unirà Nel gruppo Dopo averlo sedato Con bastite Dossi Della canna Ammuffita Ed allora Vi seguirà Dandomi Come aiuto Le incontrollabili Tarchiche Dei mostri Come ovvio Che sia Uno come lui Non può Che essere Uno dei personaggi Più forti Del gioco Shadow Ecco il personaggio Più originale Del gioco Un ninja Quello più incazzato Taciturno E desideroso Di vendetta Proprio una cosa Mai vista Prima insomma Trattandosi Alla spalla Un passato D'assassino Ed una figlia Avuta Durante Traspronza A base Di melatini Fugge Dal suo loro nativo Per raggiungere Il villaggio Della foglia Dove ottenere Il suo adastamento Da bravo Ninja Tattitudine Incazzato Sarà Ancassinato Le mille Dubbi Tormenti A confesi Di inferiorità Arrivando Quasi A sicilarsi Non considerano Si degno Di salire Sull'unicone Azzinare Di scappare Da un'inzio Volante Il potente Di esplodere Non indagate Oltre Ovviamente La fine Nel capo Se salva Lo stesso Tiene morta Un cane Di nome Interceptor Che teoricamente Dovrebbe fare A pezzi Chi non conosce Ma che nel gioco Di sottesse Delle dimensioni Della potenza Di un chihuahua Setser Il cugino Meno noto La più famosa Candante Brian Con lo scommettitore Incallito Che con un po' Colpa di fortuna Riuscita a vincere A win for life Potendosi Per mettere Un'astronave Di lusso Con il massaggio Si dice Per delle palle Sucedere Ad un centro Della mano Resta Un po' Come etica Insomma L'unico errore Della sua vita E se fai una scommessa Con Célez Bannata Bannata A vita Da duin Dopo si è stata scoperta A ballare Ripetutamente Come conseguenza Si ha lanciato In gruppo Degli eroi Invece La fra la sua parte Scagliando Cate da gioco An nemico Cosa che è costato Un'accusa Per plaggio Da parte Dicatore Di gambi Degli x-men Lanciando Pericolosissimi Dati Giocando A roulette Quest'ultima È piuttosto costosa Ma i nostri Preciosissimi Will Vi permettono Di guadagnare Enormi bonus Come le coppie Di ben Una Hp All'intera squadra O la morte Insezione Di tutti Amici e nemici Che siano Strago Un vecchietto Sfigato E depresso Vive attamata Con quella scassa Con quella scassa Sfinta Di realm Pensando Ogni giorno Ad un metodo Fantasero Per suicidarsi Trovando il gruppo Penserà bene Indonissi Per trovare Una morte Errolosa Nella L'impresa Folle E invece Vive Che sfiga A potere Alla classe Dei magli Blu Rendendo Quindi necessario L'apprendimento Delle magie Dovete il metodo Masochista Ovvero Facendosi colpire Della magia Che vuole imparare Peccato che Nella maggior parte Dei casi muore Ma d'altronde Forse è meglio così Realm La bimba minca del gioco Si spaccia Velpitrice Ma chissà come Con solo un paio Di baffi Finti Riesce a manipolare I mosti A suo piacimento Abilità Comunque inutili In quanto i danni Che farete Saranno uno Sputin Che potreste fare Normalmente Forse per causa Di ciò Forse soltanto Perché una vera Lompiscatole Nessuno Volete Nessere nel gruppo Dato l'altro Passo di necrosi Del testicolo Provocante Coco Ma chi se ne fote Di rogo Tanto lo dice E non fa mai niente Per tutto il gioco Se proprio Se proprio Volete trovarlo Fatevi mangiare Dal primo mosso Che passa Nell'isola dei numeri Mog Poteva mancare Un mogul In questo gioco Certo che no Amico O fidanzato Di umano Nonostante La sua struttura Di esce L'impugnare lanci Lunghe Anche dieci metri Di battaglia Combatta A passo di musica Ma è talmente Invalato Nel 70% Di casi Per il resto Non è di alcuna utilità Nella storia Si limita a fare Bella presenza Umaro Qual bullone Di Kefka Quando ha scagliato Nell'Africa Di meltdown Che simpatico Un oggetto Non potete Contenare In battaglia Non parla Non ha una storia passata Non ha praticamente Un ruolo In questo gioco Se vi state Credendo Dove sia questo personaggio Non preoccupatevi Non vi state Perdendo nulla Comunque Potete fare Una modalità Con lui Sovesse provare Una sfida Impendativa Tipica Attitudine Tipica Attitudine Dei fan Piancalliti Generale Leo Una delle massime sfide Dell'impero di Nasi Sembra l'unico Con un po' di sale In zucca Oltre ad avere Lui da solo Abbastanza forza Lo stendere Kefka Con un singolo sputo E per questo morirà E no Non potete Resuscitarlo Ultros Una specie di Polpo autocosciente Prevertito Che risuperà il party Fin troppe volte Nella cosa dell'avventura Già dalla sua prima Apparizione Si nota subito L'eccessiva Libide di questo essere Che va in calore Appena vede terra E durante la battaglia E durante la battaglia Fantastica Se possibile Utilizzi Dei sui tentacoli Sulla ragazza Doveva inizialmente Essere il nemico Principale della saga Vestito Significante nome D'aspetto Ma gli sceneggiatori Considerano un polpo Poco credibile Come in post finale Si decide Quindi Di sistemare Come commesso In un centro Bet and wait Nel quale Se il party Cerca di scommettere Qualcosa Per prendere Un elixir Vende Inesalimenti Scalimentato via E da un potentissimo Strannuto Kefka Un errore Di stampa vivente Alcuni lo chiamano Kefka Alticefka In realtà Lui è il protagonista Del gioco E fuori Come un balcone E l'unico Di tutta la saga Che riesce a portare avanti Sui piani malefici Indisturbato Distruggendo E modificando Il suo piacimento Il mondo intero Alla faccia di Sephiroth Il verduraio Di Final Fantasy 7 Aveva stato pure Di copiarlo Ci l'hanno Gli mostri migliori E diventando un angelo Nella sua forma finale Uriacità Qua essere il primo capitolo Della serie È presentata una forma Articolata Ed ormai Celebrei Mercato E zombie La caduta originale Del Super Nintendo E la magica Per vedere di volare Nel riproporre Il gioco Su PlayStation E Rainbow Advance Questa caratteristica È andata perduta Inizialmente Gigi Doveva essere Protagonista Ma presto Ci si è resi conto Che una protagonista Prima dei quattro arti Avrebbe limitato La potenzialità E lo sviluppo Della storia È l'unico episodio Della letterale saga Nella che si provincia Amazze buoni Reff che infatti Acquisisce Potere delle tre Grazie di studio aperto Distrugge il mondo E si trasferisce Nel natore di Pisa Dove come nel contastato Tente neanche bisogno Di legge ad persona